Come ben sapete oggi andremo ad esplorare quella che potremo definire la seconda grande partizione di CURMIT, ovvero quella che potremo definire la parte gestionale del catastro, la parte gestionale impianti. Ora condivido lo schermo con voi per mostrarvi gli argomenti della mattinata. Gli argomenti che andremo a approfondire oggi sono quelli che vedete qui elencati, ovvero l'acquisizione impianti, come si accatastano gli impianti in CURMIT, come si compilano le schede del libretto, come inserire i dati del generatore, come gestire correttamente l'anagrafica dei soggetti, la comunicazione del terzo responsabile, come gestire l'ubicazione dell'impianto e poi la trasmissione dei moduli previsti dalla normativa regionale. Insieme a questi argomenti daremo anche una serie di informazioni e comunque di nozioni che servono a collegare tra loro un pochettino tutto quanto e a capire come funziona CURMIT. Questo perché anche chi eventualmente operasse da poco sul catastro o non abbia mai operato sul catastro possa comprendere la logica generale di funzionamento. Credo che siano informazioni utili comunque per poter poi operare con cognizione di causa. Benissimo, allora partiamo subito dal punto d'accesso al catastro. Fondamentalmente il catastro regionale degli impianti termici è raggiungibile dall'indirizzo che vedete cerchiato in basso, ovvero portale-intermediocurmit.regione.marche.it che trovate anche sulla pagina regionale del sito regionale regione.marche.it dedicata all'energia ed in particolare agli impianti termici. Adesso vi faccio vedere appunto che c'è questa sezione del sito regionale dedicata agli impianti termici perché è importante che lo sappiate, perché vi trovate tutta una serie di informazioni utili per voi che operate in questo settore e perché questa pagina è interconnessa e si interfaccia alla pagina iniziale del portale CURMIT. Quindi il percorso è questo, regione.marche.it, regione utile, energia, il canale tematico dell'energia, sezione impianti termici. Ecco, qui trovate tutta una serie di approfondimenti di pagine che tra l'altro, come vedremo tra pochissimo, sono raggiungibili dall'home page di CURMIT. E trovate anche appunto la pagina che si chiama Catasto Impianti CURMIT, dentro la quale trovate l'indirizzo del portale e una serie di informazioni di servizio che comunque sono utili, come l'indirizzo del... Donatea, purtroppo si sente il microfono, non si sente più, bisogna che... Abbandono e rientro. Ecco, mi spero che ora si senta. Perfetto, si sente benissimo. Benissimo, scusate, non so, ogni tanto c'è qualche problema tecnico. Allora, ricondivido lo schermo con voi. Eccoci. Allora, torniamo alla nostra pagina appunto del sito regionale dedicato al CURMIT e dicevo, accediamo dalla pagina Catasto Impianti CURMIT all'home page del portale. Ecco, come vi dicevo prima, tra l'home page di CURMIT e il sito regionale c'è un collegamento stretto che è costituito dai pulsanti che vedete qui a sinistra. Da sapere, modulistica, quesiti, fac esempi e assistenza. Ad esempio, se io premo su da sapere normative, vengo rimbalzato sul sito regionale, proprio nella sezione impianti termici che vedevamo adesso, alla pagina dedicata alla normativa, dove trovate tutta la normativa europea, nazionale e regionale in materia di impianti termici. Oppure, cliccando su, ad esempio, quesiti fac esempi, ecco qua, scusate, ho ricliccato su normativa, quesiti fac esempi ci rimanda all'omonima pagina del sito regionale, dove troviamo una serie di fac utili praticamente per l'operatività in CURMIT, nonché le videoguide che sono anche sul portale e così via. Bene, comunque ecco, ci siamo, siamo sul portale CURMIT che, come dicevamo, si divide in due grandi macro sezioni. Una che abbiamo esplorato nel primo modulo, che possiamo chiamare portale, contiene tutta una serie di funzioni di servizio necessarie ad operare sulla parte gestionale, che andremo a esplorare oggi. La parte che andremo a esplorare oggi è appunto quella relativa al Catasso vero e proprio, ovvero è quella relativa alla gestione dei dati degli impianti termici che voi andate a inserire e alla trasmissione della modulistica regionale. Per accedere a questa seconda grande partizione del CURMIT, al cuore del Catasso, occorre fare il login mettendo praticamente le vostre credenziali nella seconda tabella di login che vedete quando ci si registra. È una tabella di login in cui vanno inserite le credenziali degli operatori, quindi dei tecnici o dei delegati del rappresentante legale, che si ricevono quando con le operazioni di registrazione ditta si censiscono i tecnici o anche successivamente si censiscono i tecnici o i delegati del rappresentante legale. E CURMIT ci invia in automatico le credenziali di tecnici e delegati. Queste credenziali sono uniche per tutte le 14 partizioni territoriali in cui è diviso il Catasso, perché la parte gestionale è divisa in 14 partizioni, una per ogni autorità competente. E quindi ci si può muovere dall'una all'altra inserendo solo una volta le credenziali senza reimmetterle. In pratica, se andiamo qua, se è già registrato accedi ai servizi, accedi ai servizi come altro operatore, appunto le credenziali vanno messe in questa seconda parte, in questa seconda sezione, non nella tabella che vedete più in alto. Allora, se noi immettiamo le credenziali, il sistema ci fa entrare appunto in una pagina in cui ci fa scegliere tra 14 autorità competenti, dobbiamo andare in quella dove noi abbiamo degli impianti su cui dobbiamo inserire dati e trasmettere moduli, ad esempio provincia di Ancona. E da qui possiamo, come dicevo, andare a cambiare ente tramite il pulsante in alto a sinistra, a destra cambia ente, cliccando qua scegliamo un altro ente senza dover reimmettere le credenziali. Ecco, andiamo a vedere quindi adesso cosa succede quando noi entriamo dentro uno specifico ente. Allora, quando entriamo dentro uno specifico ente, torno sulla provincia di Ancona, su cui ho degli impianti, come ditta di test, e abbiamo dei menu davanti a noi che esploreremo solo parzialmente, perché Curmit è insomma ricco di funzioni e noi adesso andremo a esplorare quelle che veramente ci servono in maniera prioritaria. In particolare vi mostreremo la funzione acquisizione impianto esistente, che vi farà vedere Rossano Basili, la funzione di inserimento nuovo impianto, che ugualmente vi illustrerà Rossano tra poco, e adesso parto da ricerca impianti già in carico al manutentore. Allora, una premessa, come vedete le autorità competenti o i loro soggetti esecutori comunicano con voi inviandovi dei messaggi che voi avete in evidenza immediatamente quando entrate dentro il catastro. Quindi quando vedete qua che ci sono dei messaggi non letti, cliccate per andare a vedere che cosa l'autorità competente ci ha scritto. In questo caso, ad esempio, il 5 di novembre, MP Parcheggi, che è il soggetto esecutore della provincia di Ancona, ci ha mandato un messaggio che riguardava il fatto che c'erano questi corsi di formazione. Quindi sono sempre messaggi molto importanti che vanno letti, mi raccomando. A parte i messaggi, come dicevamo, noi possiamo andare a utilizzare il menu ricerca impianti già in carico al manutentore, che ci immette nella lista di impianti che la nostra ditta ha già in carico su questo ente. Ovvero, ci permette di ricercare tramite una serie di criteri che vanno dal codice del singolo impianto a criteri più generali, come dal comune, per esempio io cerco tutti gli impianti che hanno in un dato comune, la situazione dell'RCE, eccetera. Ci permettono di selezionare uno o anche tutti gli impianti che abbiamo in un certo territorio, qualora volessimo vederne l'elenco completo e siano non troppi. Ad esempio, in questo caso, io voglio vedere tutto l'elenco della lista impianti che ho sulla provincia di Ancona e come ditta Testo Asi Software, e allora premo direttamente su Seleziona, senza mettere nessun criterio di selezione e di ricerca. E questi sono tutti i miei impianti, posso scegliere di visualizzare 10, 30, 50, 100 righe, tutti i miei impianti sulla provincia di Ancona. Ecco, da questa prima videata ho già la possibilità di avere delle informazioni di riepilogo per quanto riguarda gli impianti. Innanzitutto vedo il loro codice e la loro targa. Di che si tratta? Sono codici attribuiti in automatico dal CURMIT una volta che io vado a inserire per la prima volta un dato impianto, o meglio. Il codice impianto, che è questo, ad esempio 167130, è specifico per ogni singolo impianto e quando lo vado a censire, CURMIT me lo attribuisce. Il codice targa o codice catasto è composto da le prime quattro cifre, che sono in realtà lettere, che identificano l'autorità competente. Ad esempio, in questo caso siamo dentro la provincia di Ancona e quindi il codice impianto e il codice targa comincia con PRAN, oppure CMAN per comune di Ancona e così via. E questo codice catasto o codice targa è in realtà associato non al singolo impianto, ma al sistema edificio impianto, ovvero al libretto di impianto, come poi vedremo meglio con Rossano Vasili. E quindi può essere ovviamente comune a più impianti. Ad esempio in questo caso vediamo che il codice targa PRAN 00136180 è comune a questi tre impianti, che sono evidentemente tre impianti con codice singolo o diverso inseriti dentro lo stesso libretto, perché sono tutti e tre ubicati, in realtà nel primo caso c'è un errore, va bene, dovuto al testo, però sono tutti e tre ubicati nello stesso edificio di Agugliano in via Baleani 1. Ecco, praticamente quindi quando io andrò a inserire un impianto, per cui so che c'è già un libretto, occorrerà, come si spiega Rossano, tenerne conto. Poi mi fa vedere chi è il responsabile dell'impianto, la lista che vedo, il suo codice fiscale o portita IVA, la matricola del generatore, la potenza, se è attivo o no, eccetera, e anche che tipologia di impianto è, se è un gruppo frigo, un gruppo termico, eccetera. Nota bene, io da qui vedo ovviamente solo gli impianti anche di un determinato sistema edificio impianto, ad esempio questo, PRN 0013 6180, che sono da me seguiti, che sono a me in carico, o perché io li ho installati e quindi sono a me in carico perché li ho installati e non c'è ancora andato nessun manutentore, o perché ne ho assunto la manutenzione, appunto dopo l'installazione. Però potrebbero esserci anche altri impianti su quel libretto, installati da un altro installatore, seguiti da un altro manutentore, che comunque fanno capo a quella codice targa. Poi vedremo che comunque tutti gli impianti facenti capo ad un dato codice targa, sono visualizzabili dal libretto stampabile, anche se non sono in carico a me come manutentore, li potrò vedere nella stampa del libretto. Bene, andiamo adesso a selezionare appunto un impianto per andare a capire un po' meglio come funziona appunto il catastro. Allora, come dicevamo, vado a selezionare l'impianto, mi trovo davanti a questa prima videata, clicco su continua per poter operare sull'impianto, quindi visualizzare, inserire o modificarne le schede del libretto, oppure trasmettere i moduli regionali. Ok, continua. Allora, mi trovo davanti a una serie di menu e a una videata iniziale, dalle quali posso intuire immediatamente una cosa fondamentale, ovvero che Curmit è incentrato sul libretto di impianto. Lo vedremo tra poco, adesso prima introduco l'illustrazione sommaria di alcuni di questi menu. Allora, tramite lista impianti, fondamentalmente io ritorno alla mia lista di ricerca. Tramite il menu, invece, schede principali del libretto e altre schede del libretto, vado a intervenire sui dati dell'impianto, appunto, andando a modificare le schede del libretto. Posso poi stampare il libretto di impianto, dal quale, come dicevo, vedo tutti gli impianti inseriti su questo stesso libretto, anche non da me, anche non in carico a me come installatore o come manutentore, e posso altresì trasmettere la modulistica regionale, quindi gli RCE, la DAM, la DFM. Di questi altri due menu adesso non ci occuperemo. Quindi, come dicevo, il catasto è incentrato sulle schede del libretto di impianto e la prima cosa che noi ci troviamo davanti quando entriamo dentro l'impianto è infatti la scheda 1. La scheda 1 che non è dissimile dalla scheda ministeriale e della scheda del libretto ministeriale approvato con DM 10 febbraio 2014. Infatti c'è il punto 1.1, il punto 1.2, il punto 1.3 e 1.4 che non sono compilabili da qua, adesso vi spiego perché, e il punto 1.5. In fondo c'è una serie di dati riepilogativi. Posso passare da una scheda all'altra tramite questi pulsanti che ci mandano alla scheda successiva o ci permettono di tornare alla scheda precedente. Allora, come dicevo, CURMIT è incentrato sul libretto di impianto. Ovvero, dall'entrata in vigore del catasto unico regionale delle Marche, il libretto di impianto è diventato elettronico. Come sapete, la normativa, quindi il DPR 74 2013 e il conseguente DM 10 febbraio 2014 di approvazione dello schema libretto di impianto ministeriale, prevedono due possibilità per i libretti di impianto. Possono essere cartacei o elettronici. Allora, quando sono elettronici, vengono conservati presso i relativi catasti. E allora, nel nostro caso, appunto, con l'entrata in vigore di CURMIT, abbiamo stabilito che il libretto di impianto è diventato elettronico. Per cui la versione del libretto che fa fede non è quella cartacea, pure se va sempre stampata una copia aggiornata del libretto di impianto e tenuta presso l'impianto in caso di ispezione. Però la versione del libretto che fa fede è quella conservata a catasto. E quindi il libretto di impianto è diventato elettronico ed è, notate bene, compilabile solo dagli operatori addetti ad operare sull'impianto, ovvero dai manutentori, principalmente però dagli installatori e poi ovviamente anche dagli ispettori che si recano a fare ispezione sull'impianto. Come abbiamo detto, tranne le primissime fasi di inserimento a catasto di un impianto, in cui Curmit ci chiede di mettere alcuni dati per capire se l'impianto è già o meno presente, come ci illustrerà Rossano, poi l'inserimento e il completamento dei dati dell'impianto e anche il successivo aggiornamento va fatto sempre e solo tramite l'inserimento di tali dati nelle schede del libretto. Alcune schede sono però a compilazione automatica, quindi io non posso andare ad aggiornarle direttamente, ma le aggiorno solo trasmettendo a Curmit la modulistica regionale, ovvero ad esempio la scheda 11 e la scheda 12 del libretto, non le compilo direttamente, ma si compilano in automatico quando io vado a trasmettere a Catast un RCE. La scheda 13 del libretto, quella con praticamente il resoconto delle ispezioni, non si compila direttamente, ma si compila in automatico quando l'ispettore trasmetta a Catasto un rapporto di ispezione e così via. La regione Marche ha approvato alcune schede aggiuntive, così come prevede la normativa, che dice che appunto qualora le regioni vogliano andare a censire ulteriori dati rispetto a quelli previsti dalle schede del modello libretto ministeriale, devono appunto approvare delle schede aggiuntive. E noi quando entrate in vigore Curmit abbiamo appunto approvato delle schede aggiuntive, che sono la scheda 1 bis, che contiene una serie di dati generali dell'impianto, come il POD, il PDR, il dato del conduttore e così via. E poi le schede 4-1 bis, 4-4 bis, 4-5 bis e 4-6 bis, che come intuite seguono le relative schede 4-1, 4-4, 4-5, 4-6, per ogni tipologia di impianto, ad esempio la 4-1 è per i gruppi termici con generatore di calore a fiamma, la 4-4 è per i gruppi frigo, pompe di calore e così via, per censire alcuni dati aggiuntivi del generatore che prima venivano trasmesse ai soggetti esecutori, alle autorità competenti, mandando la DAM iniziale. Chi di voi già operava nelle marche prima del Curmit sa che all'atto dell'installazione di un nuovo impianto era necessario trasmettere al soggetto esecutore quella che noi definivamo la DAM iniziale, che non era altro che la dichiarazione di avvenuta manutenzione corredata di un secondo foglio da compilare solo in occasione dell'installazione di un nuovo impianto, della riattivazione di un impianto, della ristrutturazione di un impianto e così via. In questo secondo foglio della DAM c'erano tutta una serie di dati aggiuntivi che adesso noi andiamo a censire direttamente inserendoli nel libretto d'impianto, in queste schede aggiuntive. E quindi la DAM iniziale non esiste più e non va più trasmessa, ma va compilata a Catasto fondamentalmente la scheda aggiuntiva alla 4.1, 4.4 eccetera, che contiene quei dati che prima trasmettevamo con la DAM iniziale. Ok, detto questo andiamo un attimo a vedere come funziona appunto l'inserimento dei dati tramite schede del libretto. Allora, come dicevamo, Curmit permette l'inserimento dei dati solo tramite le schede che noi abbiamo diviso in due grandi gruppi, le schede principali e le altre schede. Allora, nelle schede principali troviamo le schede che fondamentalmente è necessario compilare per ogni impianto, anche quelli di minor potenza e per qualsiasi tipologia. Mentre le altre schede libretto sono quelle, per così dire, tra virgolette secondarie, che non sempre e non necessariamente vengono compilate, ma che vengono compilate solo qualora ci sia il relativo componente. Per esempio, la scheda 4.7 sui campi solari termici, la scheda 5 sui sistemi di regolazione e contabilizzazione, che in realtà andrebbe compilata sempre, la scheda 2 trattamento acqua, però non necessariamente ecco queste schede vanno compilate, dipende dall'assetto e dalla tipologia dell'impianto. Mentre le schede principali del libretto vanno sempre compilate ed è per questo motivo che notate accanto a loro dei flag o delle croci. Allora, quando trovate un simbolo come questo, quindi flag sul campo verde o sul campo giallo o croce sul campo rosso, si vede che questa è una scheda a compilazione diretta. Come vi ho detto prima, le schede del libretto possono essere o a compilazione diretta, quindi ci vanno inseriti i dati, oppure si possono compilare indirettamente, trasmettendo a Curmit dei moduli regionali. E allora, nel caso troviate questi simboli, la scheda è a compilazione diretta, mentre ad esempio, come dicevo prima, vedete la scheda 11 o la scheda 12, sono schede a compilazione automatica, derivante dall'inserimento dei moduli RCE, e le posso vedere, le posso visualizzare solo andando a fare stampa libretto, stampando il libretto le visualizzo, ma da qui non le compilo. Invece di queste, mi devo preoccupare di compilarle, e mi devo preoccupare di fare sì che tutti questi flag siano o verdi o almeno gialli, perché quando trovo una scheda per la quale ho la croce sul campo rosso, significa che in quella scheda mancano dei dati obbligatori. Andiamo a capire cosa significa questo. Allora, noi sappiamo che i manutentori, ad esempio, fondamentalmente, adoperano Curmit per trasmettere a Catasto i rapporti di controllo dell'efficienza energetica, il resto della modulistica, quindi la dichiarazione di avvenuta manutenzione per i gruppi termici sotto una certa potenza, alimentati a gas, come poi diremo meglio, la DFM, la dichiarazione elenco e frequenza delle operazioni di manutenzione, e così via. Ma, non si può trasmettere a Catasto un modulo regionale qualora il libretto d'impianto non sia correttamente compilato, ovvero non contenga tutti i dati che Curmit chiede come obbligatori. Se non contiene tutti i dati obbligatori, la relativa scheda dove manca un dato obbligatorio sarà appunto caratterizzata dalla croce sul campo rosso. E quindi, quando io poi andrò, proverò ad andare a inserire un modulo, ad esempio a trasmettere l'RCE, lo vediamo subito, ad esempio, quindi io vado e voglio trasmettere un RCE di tipo 1, è questo, un impianto di riscaldamento, e quindi a fiamma, e mi propone l'RCE di tipo 1 al sistema. Ecco, come vedete non posso farlo, perché il sistema mi dice che prima di inserire l'RCE io devo andare a completare i seguenti campi su scheda 4, mi avvisa di quali sono i campi mancanti, i campi obbligatori non compilati, e di qual è la scheda che contiene quei campi ancora da compilare. Qui mi dice appunto, scheda 4, manca questo, manca questo, manca questo, in effetti la scheda su cui ho la croce è proprio la scheda 4, la croce sul campo rosso. Questo perché? Perché i moduli che io trasmetto a Catasto, come ad esempio l'RCE, la DFM, la DAMA, e qualsiasi altro modulo, sono precompilati a partire da quello che io vado ad inserire nelle schede del libretto di impianto, ovvero ad esempio, l'ubicazione dell'impianto, il sistema la prende, per inserirla nell'RCE, dalla scheda 1-2, il responsabile di impianto lo prende dalla scheda 1-6, i dati del generatore li prende dalla scheda 4-1, e così via. Quindi, finché io non ho compilato completamente per i dati obbligatori, non tutti i dati sono obbligatori, ma per i dati obbligatori, le schede del libretto, non potrò trasmettere il relativo modulo, perché nel modulo mancano delle informazioni. Nota bene, da ciò deriva che se io volessi andare a trasmettere un RCE, e mi rendo conto, dall'RCE precompilato da Curmit, a partire dal libretto, che ci sono dei dati sbagliati nell'RCE, ad esempio, effettivamente c'è un errore, non è più quello il responsabile di impianto, oppure l'ubicazione era stata scritta erroneamente, mettendo una via per l'altra, io quello che devo fare non è correggere l'RCE, ma andare a cambiare il dato nella relativa scheda del libretto. Solo dopo potrò trasmettere l'RCE, perché me lo ritroverò compilato correttamente, a partire dalle correzioni effettuate nelle schede del libretto. Correzioni che posso eventualmente anche non riuscire a fare da solo, ma magari solo rivolgendomi al soggetto esecutore. Per alcuni dati funziona così. Bene, quindi abbiamo detto che tutto parte dalle schede del libretto, e che il libretto comprende tutto quello che è in un impianto, non solo necessariamente quello che vado ad inserire io. Quindi, come dicevo, ve lo faccio vedere subito, nella stampa libretto, premendo su questo menu, stampa libretto, io potrò andare a vedere qualora il libretto relativo, quindi il codice PRAN00, contenga più impianti, andando qua su stampa libretto, potrò andare a vedere tutti gli impianti afferenti a quel codice targa, ovvero codice catastro, ovvero libretto di impianto, anche non necessariamente facendo i capo alla mia azienda. Ecco, il sistema mi stampa il libretto con tutti i dati che io ho inserito, riepilogando nelle schede 1.3 e 1.4, quello che deriva dalle schede 4.1, 4.4, eccetera, quindi tutti gli impianti, ad esempio, che producono acqua calda sanitaria, ce li avrò censiti con la relativa potenza, eccetera, e così via. E quindi, dalla stampa libretto, posso vedere tutti gli impianti inseriti su quel codice targa, anche non necessariamente da me. Allora, mi sembra che per il momento ho detto tutto, quindi posso ripassare la parola a Rossano Basili, che ci illustra appunto come inserire gli impianti a catastro, come acquisire gli impianti esistenti. Quindi Rossano, vai pure. Ok, grazie, condivido lo schermo. si vede, perfetto, perfetto. Ok, allora, andiamo qui. prima di vedere gli aspetti che vi ha già accennato Dorotea, volevo farvi vedere due slide in cui c'è sostanzialmente scritto che cosa deve fare l'installatore e il manutentore. In questo slide rappresentate le operazioni da effettuare da parte dell'installatore, il quale ovviamente può installare un nuovo impianto oppure installare un nuovo generatore, sostituire un generatore esistente o riattivare un generatore precedentemente disattivato. Supponiamo che deve installare un nuovo impianto, quello che vedete qui in basso, la prima cosa che deve appurare è se esiste un libretto dove è già inserito l'impianto, perché in un libretto può esserci più impianti come poi vedremo meglio successivamente. Quindi se esiste un libretto dove è già inserito un impianto a quel punto deve raccogliere alcuni dati importanti dell'impianto già esistente perché deve dire al sistema che deve inserire un impianto su un libretto già esistente. Quindi inserisce su Curmit i dati dell'impianto esistente e così può inserire l'impianto nuovo sul libretto già esistente compilare la relativa DFM e poi deve anche compilare l'installatore il primo RCE. Se invece non esiste un libretto dove è già inserito un impianto chiaramente c'è da fare il libretto ex nuovo quindi si inserisce l'impianto e tutti i relativi dati come te stai detto da Dorotea si inserisce anche la DFM e poi si inserisce il primo RCE. Se invece l'installatore deve installare un nuovo generatore quindi l'impianto esiste già c'è solo da mettere un nuovo generatore in quell'impianto oppure sostituire un generatore di quell'impianto oppure riattivare un generatore precedentemente disattivato deve intanto capire se l'impianto è già in carico all'installatore perché se non è in carico all'installatore lo deve prima acquisire ed è questa la parte che vedremo in questo momento successivamente chiaramente per acquisire l'impianto occorre conoscere alcuni dati dell'impianto da acquisire perché se no non è possibile acquisirlo dopodiché si inserisce il generatore oppure si sostituisce il generatore si fa anche in questo caso la DFM e si fa il primo RCE di questo generatore nonché di tutti i generatori presenti in quell'impianto ovviamente se l'impianto è già in carico all'installatore non c'è bisogno ad acquisire l'impianto quindi si inserisce direttamente il generatore si fa la DFM e si fa tutti gli RCE dei generatori presenti in quell'impianto se invece ad operare è un manutentore chiaramente il manutentore non deve installare nulla deve semplicemente fare la manutenzione e quindi alla fine fare l'RCE oppure se è pertinente fare la DARM di razione della manutenzione quindi intanto deve sapere se l'impianto di cui deve fare la manutenzione è già censito a catasto è già censito su CUMIT perché se è censito su CUMIT se non è censito scusate perché se non è censito a catasto purtroppo bisogna inserire il nuovo impianto se non è censito a catasto è perché chiaramente non l'ha fatto l'installatore che avrebbe dovuto farlo però chiaramente il manutentore per poter operare deve per forza censirlo quindi deve inserire il nuovo impianto dicendo al sistema che sta compilando il libretto di un impianto di un impianto che è già esistente e ovviamente occorre conoscere tutti i dati dell'impianto da inserire a CUMIT alla fine compila tutte le schede quelle che vi ha fatto vedere sommariamente per il momento Dorotea Gioliadori compila la DFM anche in questo caso e poi fa il rapporto di controllo efficienza energetica o la DAM la DAM si riferisce ai soli impianti attenzione la DAM che è di dichiarazione avvenuta per la nazione si fa solo per impianti con generatore di calore a fiamma quindi niente pompe di calore niente cogenerazione niente teleriscaldamento impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas quindi se alimentati a pellet non va fatto se alimentati a gasolio non va fatto se alimentati a metano o a GPL quindi a gas va fatto purché la potenza però sia inferiore a 100 kilowatt e la frequenza di manutenzione sia uguale a inferiore a due anni quindi se è maggiore dei due anni la DAM non va fatta se devo fare un controllo di manutenzione una volta ogni tre anni tipicamente però il controllo della manutenzione è una volta all'anno o due volte all'anno quindi quasi sempre se ho un impianto alimentato a gas con potenza sotto 100 kilowatt devo fare la DAM però questo è sostanzialmente solo quando è che devo fare la DAM perché molte domande ci vengono rivolte ma lo devo fare la DAM o no? allora solo per impianti alimentati a gas con potenza sotto 100 kilowatt va fatta la DAM se no no per il RCE ovviamente va fatto sempre allora abbiamo detto che il manutentore se purtroppo l'impianto non è stato inserito su CURMIT per varie problematiche deve per forza inserirlo lui se invece l'impianto è già inserito a CURMIT occorre sapere se l'impianto è già in carico al manutentore cioè il manutentore è già il manutentore di quell'impianto o no perché se non è in carico al manutentore la prima cosa è acquisire l'impianto che come ho detto prima è la prima cosa che vedremo come si fa dopodiché può compilare la DFM e fare l'RCE o la DAM se l'impianto è già in carico al manutentore deve compilare le schede di libretto non ancora eventualmente compilate perché se era a carico suo qualcuna probabilmente già compilata se non aveva fatto la DFM deve farla se invece l'aveva fatta non occorre e poi fare l'RCE o inserire la DAM questo è sostanzialmente le operazioni che non sono molte che deve fare il manutentore e l'installatore e sono sostanzialmente le cose che vedremo oggi le operazioni su CUMIT che vedremo oggi la prima cosa che abbiamo detto che se sia l'installatore che il manutentore non hanno in carico l'impianto a cui l'installatore deve installare un generatore supponiamo il manutentore deve fare l'RCE la prima cosa che deve fare è acquisire l'impianto per esempio vedete c'è scritto per esempio per installare un nuovo generatore se si tratta dell'installatore supponiamo quindi che io devo acquisire un impianto io ditta installatrice R, B e C mi chiamo ho un operatore già iscritto e di cui ho le credenziali di accesso utente EMA eccetera eccetera e la password è quella che vedete qua devo acquisire un impianto che è questo che vedete qui sulla lista degli impianti in CURMIT il cui responsabile è Basilio Rossano la targa è PRAN 001 17 0974 sta nel comune di Trecastelli in via Carducci 25 ok vediamo come fare per acquisire questo impianto andiamo su CURMIT ovviamente devo accedere accedo non come cittadino ma come altro operatore e poi metto il login operatore che abbiamo detto è Belli Marco l'utente era MA 60 11 66 02 password e dentro abbiamo detto che è il comune di Trecastelli provincia quindi di Ancona scelgo l'ente provincia di Ancona ok e sono entrato vedete benvenuto Marco Belli della ditta RB EC vado sul menu gestione impianti nella sezione impianti e scelgo la prima possibilità acquisizione un impianto esistente a questo punto mi appare quello che vedete cioè una serie di campi da riempire che sono i campi naturalmente dell'impianto da acquisire nei primi tre dati i primi tre campi sono obbligatori ed è l'indirizzo dell'impianto da acquisire quindi abbiamo detto comune tre castelli quindi lo vado a scegliere ovviamente siccome è provincia di Ancona il CUMITI mi fa vedere tutti i comuni della provincia di Ancona e non altri comune abbiamo detto che era tre castelli quindi lo scelgo non c'è bisogno da scriverlo perché chiaramente è stata fatta questa opzione in modo tale da non sbagliare mai perché se uno magari scrivendolo a mano potrebbe nella fretta sbagliare e non si trova più l'impianto perché qui basta un piccolo errore perché CUMITI non ritrovi tra i propri impianti quello che devo acquisire quindi per non commettere errori laddove era possibile si è scelto di mettere campi selezionabili da un database esterno come il comune ma come il toponimo che vedete asse autostrada banchina via corso contrada allora qui abbiamo detto che era via carducci 25 quindi è la via non sbagliare tra via e via punto perché non lo troverebbe via e poi abbiamo detto via carducci anche in questo caso il sistema mi propone tutte le vie di tre castelli in modo tale che io vado a scegliere la mia per non sbagliare perché adesso in questo caso è via carducci quindi è abbastanza semplice ma qualche volta la via è formata da due o tre nomi e uno lo abbreviano con il punto un altro no per esempio fratelli Rosselli che è scritto in maniere totalmente diverse della volta F puntato L.I L.L.I delle volte tutto fratelli e quindi per evitare di commettere errori perché lo ripeto Curmit non troverebbe l'impianto che devo acquisire anche in questo caso c'è il pulsante cerca e io vado a cercare la mia via tra tutte le vie del comune di Trecastelli ecco qui c'è tutte le vie del comune io posso addirittura qua scriverne una parte in modo tale che me la trova via Carducci posso scrivere per esempio via Car e lui mi troverà tutte quelle che inizia con via Car cerca e ce n'è una sola che è per l'appunto via Carducci se scrivevo via C solo per esempio mi avrebbe trovato tante vie immagino ecco tutte quelle che iniziano per C vabbè via Carducci Card cerca e la seleziono così non è possibile sbagliare successivamente ci sono otto campi e di questi otto campi io ne devo indicare almeno quattro in modo tale che Curbite possa capire qual è l'impianto che devo acquisire chiaramente qui molti hanno detto ma non si può ridurre il numero dei dati per acquisire l'impianto e purtroppo no perché il rischio è di trovare più impianti uguali e poi di sbagliare magari prendere quello errato quindi come minimo ci vuole quattro dati esatti di quell'impianto che devo acquisire uno comunque è il numero civico e quindi abbastanza semplice abbiamo detto che era 25 e poi ce ne sono un tot io vi presento adesso un caso diciamo un po' estremo per farvi vedere che se si commette errori chiaramente Curbite non riesce a trovare l'impianto qua io vi avevo detto il codice impianto che era 16 99 13 lo scriviamo possiamo scrivere anche il cognome e il nome del responsabile che era Basili Rossano Basili Rossano ecco vedete qui io ho già inserito quattro campi e quindi il sistema dovrebbe trovarmi l'impianto che devo acquisire faccio ricerca e infatti me l'ha trovato perché vedete esce fuori conferma acquisizione impianto però se io per esempio non metto questo dato che è il codice impianto e metto per esempio il costruttore di uno dei generatori che so che è presente nell'impianto potrebbe essercene più di uno supponiamo Bosch anche in questo caso ho messo quattro dati che servivano giusto uno due tre quattro faccio ricerca e mi dice con i parametri impostati sono stati trovati cinque impianti inserire più parametri di selezione evidentemente su Culmit ci sono cinque impianti che hanno queste tutte tutti in Comune Trecastelli indirizzo via Carducci Civico 25 responsabile Basilio Rossano e costruttore della caldaia Bosch ma volendo potrei pure scrivere il PDR che è questo qui per l'appunto vedete che esce fuori la stessa cosa perché chiaramente se stanno tutti quanti a Trecastelli via Carducci 25 avranno tutti quanti lo stesso PDR infatti se faccio ricerca mi dice scusate ogni tanto da questo errore non si capisce perché mi dice con i parametri impostati sono stati trovati cinque impianti quindi sostanzialmente io qui devo essere abbastanza preciso una cosa che dirime tutto è sicuramente la matricola di uno dei generatori perché le matricole di ogni generatore è diverso quindi se ci sono più generatori io metto una matricola di uno che so che è lì basta una e lui me lo trova infatti posso cancellare questo cancellare anche Bosch non scriverci nulla e mettere la matricola la matricola presente in questo impianto è questa vedete che così me lo trova sicuramente faccio ricerca ogni tanto da sempre questo errore ecco qua che me l'ha trovato basta fare continua per acquisire l'impianto vedete che qua alla fine c'è anche numero bollino numero bollino perché c'è una certa difficoltà attualmente che tra un po' non ci sarà più nel trovare gli impianti specialmente questo diciamo dove non c'era già un sistema simile a Curmit come nelle province di Macerata Fermo e Ascoli Piceno lì purtroppo c'erano altri tipi di catastro funzionanti chiaramente non tutti i dati che adesso vuole Curmit erano presenti in quei catasti per semplificare comunque il lavoro ai manutentori agli installatori ai manutentori sostanzialmente si è comunque caricati i dati che c'erano nei vecchi catasti ma una volta caricati non tutti i dati sono comunque presenti quindi ovviamente il manutentore quando accede la prima volta compila le schede dove mancano quei dati non c'è problema ma per acquisirlo può essere un problema perché non tutti i dati che io ho qua sopra potrebbero essere presenti è un motivo per cui si è messo anche il numero bollino perché il numero bollino il bollino c'era dappertutto quindi se si sa il numero bollino ovviamente è più facile acquisire l'impianto ciò nonostante voglio dire ai soprattutto ai manutentori delle province di Macerata ferme a Scolipiceno che se non trovano un impianto che debbono acquisire sapendo che i dati che hanno inserito comunque sono quelli giusti non devono come succede oramai da un po' di tempo scriverlo ex novo perché dice ma non esiste ho tentato di acquisirlo non l'ho trovato quindi vuol dire che su Curmit non c'è e io non inserisco ex novo perché si rischia di inserire duplicare l'impianto quindi se si è sicuri che l'impianto esiste e che probabilmente è su Curmit perché magari era già su un catasto vecchio prima di inserire un nuovo impianto interpellare l'autorità competente Comuncia di Fermo Comuncia di Macerata Comune di San Benedetto e così via e dire questa cosa in modo tale che provano loro a trovarlo e a darvi i dati per poterlo acquisire o evitare di duplicare l'impianto con i problemi che poi ne deriva quando ci si accorge sempre troppo tardi ok detto questo come vedete qua io posso fare ricerca continua e a questo punto l'impianto è acquisito se vado se vado infatti su impianti ricerca impianti già in carico al manutentore come l'ha fatto vedere Dorotea li seleziono tutti e adesso non vi ho fatto vedere prima che non c'era ma ve lo assicuro che non c'era questo qua sopra che è quello appunto Tre Castelli via Carducci 25 lo posso anche andare a vedere e capire perché mi diceva che è il principale il libretto vedete tra l'altro è tutto compilato bene questo impianto quindi il manutentore che ce l'aveva prima aveva tutto fatto bene vedete ci sono in questo impianto praticamente questi sono i generatori che sono in questo impianto ce ne sono otto generatori chiaramente io tra l'altro vedete Bosch ce ne sono uno, due, tre quindi io gli avevo dato Bosch gli avevo detto che era il responsabile di Basilio Rossano che era a Tre Castelli via Carducci 25 ma lui mi videva 5 generatori e non capiva che era nello stesso impianto mentre avrebbe dovuto capirlo ma purtroppo in questo caso la cosa è complicata e non lo capisce il cool meat per cui mi dava tutte le volte dice ma guarda purtroppo io ne ho 5 di questi bisogna che mi dici bene di quale si tratta è perché qui ora è un caso limite come ho detto perché qui è un impianto che ha 8 generatori non è che se ne trovano tantissimi impianti con 8 generatori ecco tra l'altro 8 generatori poi nel tempo ne sono stati cambiati 1, 2, 3, 4, 5 sono stati cambiati praticamente sostituiti ok abbiamo quindi visto come si acquisisce un impianto ora prima di passare all'altro volevo volevo dirvi alcune cose che ve la diciamo accennate Dorotea ma le volevo approfondire sostanzialmente una facca del ministero dello sviluppo economico afferma che per ogni sistema edificio impianto dove aggiungo io è identificabile un solo responsabile di norma va compilato un solo libretto di impianto ma in quell'impianto potrebbe esserci più ovviamente più generatori poi dice e quindi nel libretto di impianto potrebbe essere più generatori poi dice che comunque se ci sono impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto di climatizzazione estiva è possibile anche compilare due diversi libretti di impianto sostanzialmente queste sono per capire meglio che cosa significa questa FAQ queste sono due casi tipici nella sinistra ho una villetta ho una villetta in cui ho una pompa di calore e una caldaia a metano entrambi entrambi mi fanno riscaldamento ambiente tramite con lo stesso circuito vedete questo che vedete sopra al pavimento poi ho una caldaia a pellet che mi fa il riscaldamento di questa stanza e basta e mi fa anche produzione d'acqua calda sanitaria insieme ai collettori solari sostanzialmente quindi ho in questo in questo edificio ho quattro impianti diversi in cui in teoria io potrei avere quattro manutentori diversi perché per esempio per quanto riguarda la caldaia a pellet il manutentore installatore dovrebbe avere la fer ossia l'abilitazione fer che è per impianti a fonti rinnovabili per esempio il manutentore della pompa di calore deve avere ovviamente il patentino F-gas mentre quello della caldaia a metano non può non averlo quindi io qui avrei dei manutentori diversi anche se poi il sottosistema di distribuzione è lo stesso almeno per quanto riguarda la caldaia a metano e la pompa di calore io posso avere dei manutentori diversi quindi se posso avere dei manutentori diversi purtroppo questi impianti devono essere diversi perché il il manutentore della pompa di calore che ha il patentino F-gas dovrà agire solo su quell'impianto e non potrà agire sull'impianto che invece dove opera il manutentore che non ha il patentino F-gas e che quindi fa solo la caldaia a metano e o idem naturalmente per la caldaia a pelle e per i collettori solari quindi sostanzialmente io qui ho un solo libretto di impianto perché l'edificio è uno solo il responsabile è uno solo perché la casa è una sola però ho quattro impianti diversi dentro lo stesso libretto di impianto a destra ho un condominio di quattro appartamenti un condominio che ha un impianto centralizzato che è questo che vedete qua in basso in cantina cioè in cantina sì sotto terra quindi è sotto livello di terra ed è composto questo impianto centralizzato da due caldaie supponiamo a metano qui non c'è scritto non può essere GPL perché sotto piano di campagna non può essere GPL quindi è metano e fa produzione acqua calda e riscaldamento ambientale per tutti e quattro gli appartamenti poi però in ogni appartamento ho anche una pompa di calore o meglio una pompa di calore che mi fa raffrescamento estivo ma può fare anche riscaldamento invernale per ogni appartamento quindi io qui ho purtroppo sicuramente cinque responsabili diversi perché avrò che per l'impianto centralizzato il responsabile è l'amministratore di condominio poi per ogni pompa di calore posta nei vari appartamenti il responsabile è chi occupa quell'appartamento e quindi qui per forza avrò anche se l'edificio è uno solo avrò cinque libretti di impianto in uno in un libretto di impianto avrò l'impianto centralizzato con il responsabile responsabile condominio poi quattro libretti di impianto dove ci sarà solo la pompa di calore in ognuno di essi con il proprio responsabile che è responsabile del relativo appartamento detto questo sommariamente noi potremmo avere che per ogni sistema edificio impianto o meglio per ogni sistema edificio impianti perché l'impianto in quell'edificio può essere più di uno che è caratterizzato da un però caratterizzato da un solo responsabile o un solo libretto di impianto con il proprio codice catastro poi però in un unico libretto di impianto possono coesistere più impianti come abbiamo visto prima nella villetta ognuno dei quali può avere il proprio manutentore quindi possono avere più impianti con il codice impianto suo poi in un unico impianto possono anche esserci più generatori questi generatori devono avere le stesse funzioni e devono essere alimentati dallo stesso combustibile o allo stesso modo per essere di un unico impianto meglio specificiamo meglio questa cosa sono considerati facente parte di un unico impianto e quindi un unico codice impianto i generatori di calore a fiamma ossia caldaie che sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione e sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile attenzione non dallo stesso combustibile dallo stesso tipo di combustibile gassoso solido liquido quindi per esempio se io ho due generatori di calore che sono inseriti in parallelo in gergo si dice cioè che agiscono nello stesso sistema di distribuzione all'acqua calda alimentati tutti due a gas metano io ho un solo impianto la cui potenza è la somma delle potenze dei singoli generatori ma anche se è uno alimentato a metano e un altro alimentato a GPL siccome tutti i due gassosi io comunque avrò un unico impianto la cui potenza è uguale la somma delle potenze dei singoli generatori attenzione che in questo caso io pago il bollino non del generatore ma dell'impianto e quindi devo sommare e poi pago a seconda quant'è la somma per fare e anche la frequenza naturalmente cambia per esempio sopra se l'impianto è alimentato a gas sopra 100 kilowatt la frequenza è del controllo nonché dell'invio delle RCE con bollino è una volta ogni due anni se invece è sotto 100 kilowatt è una volta ogni quattro anni quindi se io avessi due generatori messi in parallelo quindi stesso sottosistema di distribuzione uno da 50 kilowatt e l'altro da 60 kilowatt la somma mi fa 110 kilowatt per cui io alla fine devo fare il controllo una volta ogni due anni e non una volta ogni quattro anni nonché pagare il bollino per gli impianti sopra 100 kilowatt ovviamente devono verificarsi entrambi queste due condizioni è un'eccezione se ho un se ho dei generatori di aria calda che non hanno il sistema di distribuzione oppure ce l'hanno generi di generatori di aria calda non ce l'hanno ma in qualche caso ce l'ha un sistema di distribuzione ad aria calda naturalmente ce l'hanno ma è separato perché se non è separato ricade nel discorso di prima ma se invece è separato questi sono però installati in locali diversi dalle abitazioni e hanno sicuramente la potenza utile superiore a 10 kilowatt sono alimentati dallo stesso combustibile e servono lo stesso ambiente la stessa stanza anche se non hanno il sottosistema di distribuzione in comune vanno comunque sommate le potenze e ho un unico impianto tipicamente per fare un esempio calzante supponiamo nelle palestre molte volte hanno quei generatori aria calda a soffitto ma hanno anche generatori a calda a soffitto che però poi hanno un sistema di distribuzione rivolto verso il basso in modo da scaldare anche la parte bassa perché il tetto delle palestre è alto se no il caldo si fermerebbe sull'alto e la parte bassa non sarebbe riscaldata quindi hanno quasi sempre anche un sistema di distribuzione separato ogni generatore di aria calda ha il suo che va verso il basso ecco siccome lì serve un solo ambiente perché è la palestra ovviamente non parlo dei bagni parlo della stanza dove avvengono le competizioni sportive insomma quindi un'unica stanza ok ecco in quel caso se gli aerogeneratori hanno una potenza utile superiore a 10 kilowatt l'uno naturalmente sono alimentati allo stesso combustibile generalmente sì perché non è che si porta combustibili diversi siccome serve lo stesso ambiente in quel caso io devo comunque sommare le potenze dei generatori di aria calda e ho un solo impianto la cui potenza è per l'appunto la somma delle potenze dei singoli generatori in aria calda però questa è un'eccezione abbiamo detto dei generatori di calore a fiamma vediamo che cosa succede per le pompe di calore o colpifilo è la stessa cosa più o meno sono considerati facente parte di un unico impianto e quindi hanno un unico codice impianto le pompe di calore inserite nello stesso sottosistema di distribuzione purché abbiano singolarmente una potenza nominale utile superiore a 12 kilowatt questa cosa non c'era nelle caldaglie ma invece nelle pompe di calore sì ogni pompa di calore deve avere una potenza nominale utile superiore a 12 kilowatt se non non si somma sono azionate dallo stesso sistema cioè o è tutte elettriche o è tutte ha energia termica o è tutto ha un motore endotermico ma questo è naturale che abbiano tutti lo stesso sistema di azionamento e producano lo stesso tipo di calmizzazione cioè o tutte fanno caldo o tutte fanno caldo più freddo o tutte fanno freddo quindi se sono verificate queste condizioni anche in questo caso occorre sommare le singole potenze utili e ottengo un unico impianto con un codice impianto e quindi un unico RCE da cui potenza la prende in corazione e la somma delle potenze dei singoli pompe di calore anche in questo caso c'è l'eccezione che è più o meno uguale a quella per il rigenatore di caldo della fiamma cioè se io ho delle pompe di calore che sono installate in locali diversi dalle abitazioni civili e che hanno singolarmente una potenza nominale utile sopra i 12 kg formazionalmente nello stesso sottosistema producono lo stesso tipo di discriminazione e agiscono nella stessa stanza per esempio nella palestra per esempio che facevo prima in questo caso è un'eccezione ma debbo comunque sommare le potenze delle singole pompe di calore e avrò un solo impianto con un unico codice impianto questa cosa è molto importante perché purtroppo gli errori che si verificano di più in questo momento è proprio nel considerare quando ho un unico impianto e quando no le cose che vi ho detto sono ovviamente scritte più volte sul su Curmit ogni volta che inserisco poi le vedremo ogni volta che devo inserire qualche generatore mi viene ricordato quando si somma quando non si somma in modo tale da non sbagliare ma ciò nonostante siccome come avete visto è un po' complicato spesso si fa degli errori allora abbiamo già visto questa slide abbiamo visto già come avviene l'acquisizione di impianto ora andremo a vedere come si installa un nuovo impianto quando non esiste a Curmit cioè l'installatore ha fatto un impianto in una casa nuova e adesso lo deve inserire su Curmit perché deve fare il libretto di impianto attenzione la prima compilazione del libretto di impianto per legge non regionale ma nazionale quindi anche regionale spetta all'installatore è l'installatore che ha l'obbligo così come rilascia la conformità dell'impianto all'obbligo di fare il libretto di impianto prima aveva l'obbligo di farlo cartaceo ora aveva l'obbligo di farlo per via informatica attraverso Curmit quindi è lui che deve inserire per la prima volta i dati su Curmit successivamente vedremo l'installazione di un nuovo impianto su un libretto esistente e poi vedremo anche l'installazione di un nuovo generatore e anche la sostituzione del generatore quindi vedremo l'inserimento della DFM non credo perché non facciamo in tempo vedremo solo le RCE ok per quanto riguarda il manutentore la stessa cosa abbiamo già visto come si acquisisce l'impianto adesso vedremo successivamente come si compila un libretto di impianto per impianto che è già esistente perché abbiamo detto che lo doveva fare l'installatore ma nel caso l'installatore non lo faccia è costretto a farlo il manutentore se vuole fare le RCE e poi invece vedremo come compilare tutte le schede del libretto non ancora compilate iniziamo con l'inserimento di nuovo impianto in un nuovo libretto di impianto supponiamo che io sia la ditta Mario Marini e C ho un operatore che è Mario Marini codice utente per entrare la password quella che vedete devo inserire un nuovo impianto sul libretto sul nuovo libretto di impianto cioè il libretto ancora non c'è devo inserire un nuovo impianto su CUMIT perché ho installato questo impianto a Ferrari Sandro che è a Castelbellino in provincia di Ancona di Ale del lavoro 302 è una civile abitazione singola abitazione ho anche il PDR l'impianto che è quello che vedete scritto l'impianto è formato da un'unica caldaglia in cui il costruttore è ACV modello urano matricola 41299 barra 3 è una caldaglia alimentata a metano la data di installazione ieri 2112 2020 la data di costruzione della caldaglia è 2019 la potenza al focolare dell'impianto è 25 kW mentre la potenza utile è 22,5 vediamo come fare andiamo su CUMIT abbiamo detto che Mario Marini l'utente è ma 6011 64 01 password entra dimenticavo una cosa che è meglio che dico subito ho detto che alla prima installazione è l'installatore che deve riempire il libretto di impianto deve fare il libretto di impianto e deve inserire i dati su CUMIT siccome si usa anche se la norma parla chiaro è compito dell'installatore però siccome qua si usa far fare la cosiddetta prima accensione tra virgolette dico perché non esiste una norma che parla di prima accensione al CAT che è il centro di assistenza il quale deve comunque intervenire per attivare la garanzia del generatore e spesso siccome poi i controlli che deve fare il CAT sono quelli previsti dalla norma e quindi dall'RCE e allora molti installatori fanno fare la cosiddetta fanno fare diciamo oltre a far fare attivare la garanzia fanno compilare il libretto di impianto ai operatori del CAT bene la cosa è possibile la cosa è possibile però l'operatore del CAT agisce per conto dell'installatore perché per legge aspetta l'installatore quindi è l'installatore che deve dargli la username e la password per entrare quella che io ho messo in questo momento l'operatore del CAT entra con quella password che gli ha dato all'installatore e fa il libretto di impianto la responsabilità per quanto riguarda i controlli effettuati dall'autorità competente rimane in carico all'installatore quindi non è possibile ovviamente perché succede anche questo che l'operatore del CAT va per attivare la garanzia il libretto non c'è ma nessuno gli ha detto che deve riempirlo non gliel'ha detto l'installatore non gliel'ha detto nessuno e giustamente lui non lo riempie perché non può riempirlo se non ha l'usnm e la password dell'installatore e quindi quell'impianto non viene inserito su Coolnit con problemi per il manutentore che arriva successivamente che magari non sa neanche che non c'è il libretto perché arriva e non lo vede il libretto cartaceo potrebbe anche essere stato perso e quindi magari va a ricercare su Coolnit per acquisirsi l'impianto come abbiamo visto prima non lo trova perché nessuno ce l'ha mai messo quindi l'installatore ha l'obbligo di riempire il libretto l'impianto se lo fa fare al CAT glielo deve dire l'installatore al CAT e gli deve dare l'username e la password per poterlo fare altrimenti è l'installatore che non fa quello che prevede la legge che può essere per questo ovviamente multato ed è anche salate le multe in questo caso vabbè era aperta e chiusa la parentesi adesso invece in questo caso è l'installatore Mario Marini che lo fa lui non dà il compito al CAT è entrato abbiamo detto che l'impianto che ha installato è a Castelbellino in provincia di Ancona quindi scelgo provincia di Ancona poi vado sul menu impianti e scrivo inserisci nuovo impianto cioè scelgo inserisco nuovo impianto quando scelgo inserisco nuovo impianto mi appare questa videata diciamo dove devo inserire alcuni campi uno due tre quattro cinque sei set otto campi questa videata e anche quella successiva serve a Curmit per vedere se l'impianto che io devo inserire non è già presente a Catasto io lo so avendolo installato ieri che non c'è non può esserci dentro Curmit chiaramente ma siccome ci sono tanti errori effettuati da altri manutettori installatori che hanno installato più volte un impianto che già c'era e allora chiaramente bisogna che Curmit faccia prima un primo controllo per vedere che effettivamente i dati che io inserisco non sono già presenti in Curmit comunque non è che io riempio questi campi a vuoto nel senso che comunque poi una volta riempiti questi campi non è che mi li chiede più li mette dentro un libretto quindi sostanzialmente ho già fatto parte del mio lavoro che dovevo fare quali sono questi dati c'è il pod e il pdr è obbligatorio inserire il pdr per tutti quegli impianti aventi generatori di calore a fiamma alimentati a metano da rete di distribuzione quindi per tutti gli altri esempio gpl bombolone gasolio pellet bisogna è obbligatorio il pod perché pdr non c'è naturalmente quindi in questo caso siccome è un generatore di calore a fiamma alimentato a metano abbiamo detto io devo inserire il pdr che è questo poi abbiamo detto che la caldaglia e il costruttore era ACV che il modello era urano che la matricola era 41 299 barra 3 ecco questo è uno dei controlli che fa immediatamente Kuhnit cioè vede se al proprio interno c'è già un generatore con questa matricola perché chiaramente i generatori hanno ognuno matricola diversa per cui chiaramente se trova un generatore che ha già questa matricola dice che c'è un errore perché non è possibile che io installi una caldaglia che è già installata da qualche altra parte avendo questa matricola codice catastro devo scrivere qualcosa? no perché il codice catastro poi me lo affibierà direttamente il sistema una volta entrato quindi non devo scrivere nulla d'altronde sotto sta scritto compilare il campo codice catastro solo se si vuole inserire un nuovo impianto in un libretto già esistente abbiamo detto che questo libretto non c'è perché questo è un impianto questo lato ieri quindi l'impianto è nuovo quindi non devo compilare il codice catastro e comunque non l'avrei compilato perché non lo conosco chiaramente tipologia impianto generatore a combustione mi va bene combustibile metano questo punto confermo e mi va avanti il sistema e mi dà la seconda videata anche questa serve per controllare se esiste già un impianto uguale dentro Curmit ma comunque io una volta messi i dati li acquisisce se va tutto bene e quindi continuo ad inserire codice impianto e codice catastro di nuovo non devo riempirli d'altronde se ci vado sopra non mi dà neanche la possibilità di riempirli quindi non c'è problema tipologia abbiamo detto che è un impianto autonomo abbiamo detto che sta nel comune di Castelbellino in provincia di Ancona cap del comune Castelbellino è 630 l'indirizzo avevamo detto che era viale del lavoro 302 allora scelgo il toponimo che è viale però già qui mi sa che viale viale è scritto vedete c'è un viale e un viale io non lo so questo se è viale o viale che vuol dire la stessa cosa quindi forse è meglio non scriverlo perché se c'è questa ambiguità è meglio prima andare a cercare tutte le vie qua di Castelbellino quindi metto su cerca e poi siccome è viale del lavoro posso scrivere del vediamo un po' se c'è del dell'artigianato della vittoria e del lavoro quindi è questo vedete che infatti è scritto VLE per cui sì avevo scelto viale prima scritto per esteso poi del lavoro non lo trovavo perché questo è VLE quindi bisogna un attimino stare attento a quello che si scrive perché come avevo detto prima le vie sono quelle comunicate direttamente dai comuni con quella metodologia e non può essere diversa perché se no esce fuori dei casini se uno scrive viale per intero oppure scrive VLE ok quindi bisogna cercare e se non si trova bisogna andarla a vedere bene perché potrebbe addirittura non esserci affatto perché chiaramente se è una via nuova per esempio se è una casa nuova è facile che possa essere una via nuova che ancora non è stata comunicata all'autorità competente che la deve mettere dentro CURMIT potrebbe non esserci in quel caso se uno non la trova chiaramente chiama l'autorità competente e dice guarda io ho installato una caldaia su una via che non mi risulta che ci sia è via Pinco Pallino a Castelbellino e non c'è quindi bisogna che me la inserisce l'autorità competente la inserisce e appena inserita voi la troverete quindi però fare attenzione insomma a quello che si cerca abbiamo detto via del lavoro quindi seleziono questo e vedete che me lo scrive tutto mi scrive via del lavoro numero 302 se c'è la barra 302 barra va scritto qua sotto qua la barra vedete c'è barra e sotto perché molti in una trova dicono ma barra e barra 2 dove lo metto è sotto c'è barra e poi sotto ok categoria dell'edificio abbiamo detto che è residenza continuativa poi abbiamo detto che il proprietario è anche responsabile quindi responsabile proprietario nome anche qui va cercati perché anche qui non bisogna sbagliare tra l'altro perché il proprietario potrebbe essere anche uno che non risiede in quel posto quindi magari potrebbe essere uno che risiede a Milano che ha comprato quella casa e quindi va cercato per non commettere errori va cercato attraverso il puntante cerca allora qui per esempio abbiamo detto che era Ferrari Sandro scrivo Ferrari Sandro e poi gli dico seleziona e lui me ne trova due me ne trova due però capisco subito che qua c'è un errore perché il secondo non c'è l'indirizzo non c'è il codice fiscale qui probabilmente sono state fatte delle prove con questo nominativo ma non ha senso perché è obbligatorio scrivere l'indirizzo e il codice fiscale quindi è sicuramente il primo seleziono e lui mi scrive Ferrari Sandro se però io non non lo trovo supponiamo che scrivo è un primo nome che mi viene in mente Taccini Duilio speriamo che non ci sia cerca seleziona non mi trova nulla perché non esiste allora se non esiste io posso metterlo inserisci soggetto attenzione che se non me lo trova io non posso non mettere il nome qui e poi dire inserisci soggetto perché qua non mi fa inserire il nome e cognome quindi devo scriverlo qui altronde lo devo scrivere all'inizio per trovarlo quindi e poi dico inserisci soggetto vedete che Taccini Duilio me lo scrive e poi devo inserire qua tutti i dati con l'asterisco rosso perché l'asterisco rosso identifica i dati obbligatori ogni volta che in un campo c'è un asterisco rosso significa che il dato è obbligatorio e se non lo inserisco il sistema mi dà errore e mi dice no bisogna inserirlo per forza quindi vedete che per scrivere un nuovo nominativo di responsabile devo scrivere obbligatoriamente il cognome il nome l'indirizzo il comune la provincia la natura giuridica se fisica o giuridica e poi il codice fiscale e poi almeno uno di questi dati sotto cioè telefono cellulare email fax pec e così lo inserisco adesso non lo sto naturalmente a inserire perché non esiste questo taccione inuglio è aumentato quindi chiudo e invece andiamo a cercare a schiederci Ferrari Sandro Ferrari Sandro cerca seleziona è il primo qua ok qui adesso è obbligatorio scrivere sempre oltre al proprietario che è sempre obbligatorio scrivere anche chi è responsabile per esempio se questa casa in cui si è andata installare la caldaia è in affitto il responsabile è l'occupante quindi qua avrei dovuto scrivere occupante poi scrivere il proprietario e poi però scrivere anche l'occupante perché è irresponsabile è sempre obbligatorio inserirlo in questo caso il responsabile è il proprietario che è anche occupante quindi basta scrivere il proprietario gli altri dati non sono obbligatori ovviamente se ci fosse stato il terzo responsabile ma non c'è ancora perché è installata in questo momento quindi il terzo responsabile non può esserci tra l'altro per le caldaie piccoline come questa qui non può esserci il terzo responsabile quindi però se c'era il terzo responsabile ovviamente era obbligatorio scrivere il terzo responsabile data installazione abbiamo detto che è il 21 12 2020 data di costruzione della caldaia qui basta scrivere l'anno se uno non sa quando il giorno il mese basta che scrive l'anno è uguale costruttore l'avevo già scritto prima me lo riporta ACV modello Murano PDR me lo riporta non avevo la matricola me la riporta non avevo scritto la potenza termica al focolare che abbiamo detto che è da 25 kilowatt e la potenza utile che è 22 5 adesso se io faccio conferma inserimento Curmit mi controlla che non ci sia già un impianto censito con queste caratteristiche se c'è mi dice errore e se invece non c'è mi scrive già i dati e mi riempie il libretto già con questi dati che io ho inserito quindi conferma inserimento ma dato conferma inserimento impianto vuol dire che non ha trovato un impianto uguale e quindi mi ha già riempito la prima parte del libretto con i dati che ho inserito finora basta che scrivo continua e si vede che qui questa è la prima pagina del libretto vedete scheda numero 1.1 1.2 è già in parte riempita ci sarà da riempire ovviamente altri dati in particolare vedete che come diceva Dorotea ancora ci sono molti dati in rosso in verde c'è solo questa io adesso potrei compilare già le altre schede tranquillamente tutte queste che è in rosso o tutte le altre però non potrei inserire i moduli regionali anche se ho inserito tutte quelle schede perché perché prima di essere inserito i dati sono già inseriti su CUMIT ma per avere effetti l'effetto finale manca ancora l'approvazione dell'autorità competente cioè prima proprio per non commettere errori prima di inserire definitivamente questi dati e un nuovo libretto di impianto dovrà l'autorità competente dovrà controllare che questi dati siano giusti che non ci sia un altro impianto similare o uguale inserito su CUMIT infatti se io vado a vedere ricerca già impianti in carico al manutentore ho tutti gli impianti già a mio carico l'ultimo che ho inserito quello inserito ora è questo qui l'ultimo che vedete qui in fondo come vedete qua manca le azioni cioè non posso selezionarlo ma soprattutto se vedete in questa colonna dove artista significa attivo qua in quello che ho inserito ora c'è scritto contro significa da controllare da parte dell'autorità competente quando l'autorità competente ma lo fa nella stessa giornata che io ho inserito questi dati quando lo controllerà e mi darà l'ok e qua apparirà AT esattamente come in verde esattamente come quello sopra e qua mi comparirà CELES e storico in modo tale che poi io potrò selezionarlo con CELES andare a riempire tutte le schede che magari non avevo riempito come in questo momento non le ho riempite tutte oppure andare a fare l'RC eccetera quindi quindi prima di fare l'RCE purtroppo io devo ottenere l'ok dall'autorità competente giorno dopo siccome lo fa in giornata l'autorità competente il giorno dopo posso inserire l'RCE se per caso l'autorità competente non lo fa in giornata chiamatela io devo fare l'RCE mi vuoi dare l'ok per quell'impianto questa cosa dell'ok è stata voluta sia dall'autorità competente che dalle vostre associazioni di categoria proprio per essere sicuri di non commettere errori quindi così è e così occorre fare purtroppo voi non potete fare immediatamente l'RCE dopo aver inserito per la prima volta l'impianto su CoolMeet dovete aspettare l'ok dell'autorità competente ok abbiamo visto come si inserisce un nuovo impianto e un nuovo libretto di impianto su CoolMeet ora andiamo a vedere che cosa andiamo a vedere come si inserisce un nuovo impianto sul libretto di impianto dove esiste già un impianto supponiamo per esempio che io sia la ditta Mario Marini CSNC esattamente quella di prima con lo stesso operatore Mario Marini che ho installato una pompa di calore pompa di calore il cui costruttore è Armec modello SMG350 queste le caratteristiche della pompa di calore c'è il pod naturalmente perché come ho già detto se l'impianto che ho installato non è un generatore di calore la fiamma alimentata a metano debba avere il pod e non il pdr quindi in questo caso pod poi va bene caratteristiche della pompa di calore che è una pompa di calore solo di 4 kilowatt allora una cosa non a caso ho scritto così perché le pompe di calore soggette poi al controllo da parte dell'autorità competente debbano avere una potenza minima di 12 kilowatt così come le caldaglie con bucciatore di calore a fiamma così come le caldaglie sostanzialmente debbano avere una potenza sopra 10 kilowatt ciò nonostante anche le pompe di calore sotto 10 kilowatt sotto 12 kilowatt sono impianti termici nonché i generatori di calore a fiamma sotto i 10 kilowatt sono impianti termici e quindi essendo impianti termici vanno comunque inseriti sul libretto di impianto anche se poi l'autorità competente non non controllerà questo però siccome sostanzialmente molti dicono vabbè tanto il controllo l'autorità competente su questi impianti non me li fa e io non li inserisco è grave errore grave perché se poi quell'edificio va venduto oppure va dato in affitto è un appartamento che sarà dato in affitto per vendere o affittare occorre produrre l'attestato di prestazione energetica cosiddetto APE che fa il certificatore è e con l'APE è obbligatorio allegare il libretto di impianto cartaceo ovviamente ma il certificatore sulla testata di prestazione energetica scrivere perché è così dice la legge tutti gli impianti esistenti in quell'appartamento in quell'edificio a cui si riferisce l'APE quindi anche le pompe di calore sotto i 10 kilowatt e i 12 kilowatt come anche gli impianti con generatore di calore a fiamma sotto 10 kilowatt lui li deve inserire tutti per cui poi ti andrà a controllare si accorgerà che mentre sull'attestato di prestazione energetica c'è la pompa di calore a 4 kilowatt nel libretto di impianto non esiste e quindi dice no bisogna inserirlo perché se no l'APE non è valido quindi attenzione anche le pompe di calore sotto 12 kilowatt vanno inserite su coolmit così pure gli impianti con generatore di calore a fiamma sotto 10 kilowatt ok quindi questa è una pompa di calore che io vado ad inserire sul libretto di impianto che ha una potenza di 4 kilowatt so che nel libretto di impianto c'è già un generatore che ha una fiamma perché è stata fatta prima di installare la mia pompa di calore qualcuno ha già installato la caldaia un impianto per il riscaldamento quindi io so che debbo inserire la mia pompa di calore sul libretto che già esiste dove c'è già la caldaia quindi debbo conoscere alcuni dati in modo tale che gli dico a culmite guarda che io devo inserire questo impianto su questo libretto questo libretto che cos'è è un libretto che ha già un pdr per esempio perché era una caldaia e quindi gli ha inserito per forza il pdr so già il proprietario che è Ferrari Sandro so già che è in via Contrada Molino 68 68 630 a Castelbellino via Contrada Molino so soprattutto il codice catastro questo devo sapere per forza che è PRAN 00171513 quindi io gli dirò siccome il codice catastro è assegnato al libretto abbiamo visto prima che per ogni libretto l'impianto c'è un unico codice catastro quindi io gli dico guarda devo inserire un impianto su questo libretto che ha questo codice catastro quindi CURMIT capirà che devo inserirlo in quel libretto ovviamente con quell'unico codice catastro vediamo vediamo nella pratica cosa faccio quindi andiamo su CURMIT abbiamo detto ah naturalmente dopo è scontato è che se io non ho siccome installo la pompa di calore per la prima volta sono all'installatore quindi non c'è problema però se fossi stato un manutettore se non l'avevo devo prima acquisirlo l'impianto naturalmente ma in questo caso è ex nuovo è vecchio il generatore di calore a fiamma ma la pompa di calore è nuova l'ho installata ieri per cui non devo acquisire nulla è un nuovo impianto naturalmente allora codice utente MA 60 11 64 01 password entro abbiamo detto che comune di Castelbellino in provincia di Ancona quindi scelgo la provincia di Ancona vai poi vado sul menu impianti e che cosa inserisco è chiaramente un nuovo impianto perché comunque è un nuovo impianto quindi inserisci un nuovo impianto naturalmente mi si apre la stessa finestra che abbiamo visto prima in questo caso è una pompa di calore quindi io devo scrivere il pod il pod che è questo il pdr potrei non scriverlo ma siccome lo so siccome c'è già non è obbligatorio ma siccome c'è già la caldaia quindi già è stato inserito il pdr dal dall'installatore della caldaia se lo so lo posso scrivere lo posso scrivere comunque lo scrivo perché poi vi faccio vedere una cosa ok ripeto posso anche non scriverlo costruttore della mia pompa di calore abbiamo detto che il costruttore era Aermec Aermec il modello era SMG350 la matricola era 12 B 11 44 o a differenza di prima ora devo scrivere il codice catastro questa è l'unica differenza rispetto a quella di prima cioè io gli dico a Curvit guarda esiste già un libretto con questo codice catastro quindi questo impianto ve lo metti in questo libretto abbiamo detto che il codice catastro era P R A N P R A N 001 71513 attenzione a scrivere bene il codice catastro perché sennò non troverà mai il libretto non sbagliarsi poi tipologia del pianto non è un generatore a combustione ma è una pompa di calore una pompa di calore e inserimento combustibile vabbè qui c'è la possibilità di scegliere solo pompa di calore naturalmente quindi pompa di calore vedete che mi ha dato attenzione esiste a catastro un impianto con lo stesso PDR confermi l'inserimento eh sì lo so che esiste quindi confermo l'inserimento se non avevo scritto nulla non mi appariva ovviamente questa dicitura ma vista che l'ho scritta lui ha fatto un controllo e ha visto che già c'è però io la scriverei perché così ho la conferma che esiste già il libretto e che eh eh e che io vado ad inserire la mia pompa di calore in quel libretto anche se non è obbligatorio conferma addirittura me lo dice un'altra volta attenzione eh vabbè io confermo per la seconda volta perché lo so e a questo punto mi va nella seconda pagina che è uguale a quella che abbiamo visto prima quindi finisco a inserire questi dati anche in questa seconda pagina ecco vedete che il codice catasto me l'ha scritto quindi me l'ha riconosciuto giustamente se non andava avanti quindi rispetto a prima adesso ho già il codice catasto ma non ho il codice impianto giustamente perché il codice impianto me lo dà e chiaramente il codice impianto è diverso dall'impianto con generatore di calore a fiamma perché questo ha un suo codice impianto perché è un impianto nuovo a pompa di calore e quindi il codice impianto me lo darà quando io confermo l'inserimento di questi dati non devo inserire nulla e d'altronde non posso andarci quindi non rischio di sbagliare altra cosa che voglio farvi notare è che ovviamente avendo trovato che esiste già un libretto con quel codice catasto ma ha inserito già i dati che ha trovato in quel libretto per esempio vedete via Contrada Molino giustamente perché la caldaia già era inserita e quindi questi dati già c'erano l'unica cosa che non mi ha inserito è il comune ma lui lo sa già che il comune è Castelbellino però lo fa inserire per conferma quindi giusto per dire guarda non stiamo sbagliando è giusto e quindi io vado a scegliere Castelbellino se scelgo un comune un altro comune quando gli vado a dire conferma mi dice no c'è un errore perché chiaramente quell'altro comune non mi trova via Contrada Molino 68 eccetera è giusto per avere una conferma in più che non è stato scritto il comune Castelbellino poi ovviamente sapeva già che tutti i dati che già c'erano nel libretto di impianto se l'ha già iscritti il è il responsabile perché il responsabile è sempre quello non è che può essere un altro responsabile perché l'impianto è diverso per ogni libretto esiste un solo unico responsabile di impianto e quindi Ferrari Sandro eccetera manca questi dati con l'asterisco rosso la data di installazione abbiamo detto che era il 21 12 2020 data di costruzione abbiamo detto che era il 2018 di costruzione della pompa di calore ovviamente questi dati già aere che modello eccetera la dimensione di prima in cui me l'ha inserito la potenza frigorifera nominale potenza frigorifera nominale è 3,52 la potenza la potenza assorbita nominale il raffrescamento è 0,88 la potenza termica nominale è 4 kilowatt e la potenza assorbita nominale il riscaldamento è 1 kilowatt allora qui bisogna fare attenzione stiamo parlando di una pompa di calore il calcolo delle potenze nominali sia frigorifera sia termica sia in produzione di freddo che in produzione di caldo sono calcolate come prescritto dalla norma EN 14.511 e dalla norma EN 14.825 ed è differente secondo la tipologia delle pompe di calore cioè pompe di calore aria aria pompe di calore aria acqua pompe di calore acqua aria pompe di calore acqua acqua quindi bisogna andarla a vedere sul libretto di istruzioni sulle caratteristiche tecniche e scrivere solo quelle che pertinenti che fanno riferimento all'EN 14.511 o all'EN 14.825 cioè il calcolo viene effettuato a seconda la temperatura del primario e del secondario temperatura esterna per esempio se fosse aria e temperatura interna oppure se è aria acqua la temperatura dell'aria esterna e la temperatura dell'acqua interna ok quindi bisogna andare a vedere e lo sbagliarsi mettere quelle dell'EN 14.511 o EN 14.812 sistema di azionamento è elettrico fluido frigorigeno è l'R32 carica del refrigerante è 0.90 e carica dell'Ata sì PDR pod ovviamente me l'ha scritta perché l'avevo inserita io faccio conferma l'inserimento anche in questo caso mi avvisa attenzione esiste a catastro l'impianto con lo stesso PDR confermi l'inserimento sì perché lo so a questo punto me l'ha fatto faccio continua io ho la mia il mio impianto inserito nel libretto che già c'era con targa PRA N0017153 naturalmente io non potrò vedere i dati che ha inserito l'installatore della caldaia né andarli a cambiare vedrò solo il mio impianto ovviamente a meno che non stampo il libretto perché se stampo il libretto vedo tutto anche in questo caso però siccome è un nuovo impianto esattamente come prima prima di poter inserire i moduli regionali dovrò avere l'ok dell'autorità competente posso comunque per il momento anche scrivere questi dati che mancano qua per esempio andiamo qua andiamo su modifica così vediamo anche come si riempie per le pompe di calore le schede obbligatorie allora punto 1 1 è che cosa la tipologia dell'intervento va bene allora la tipologia dell'intervento è nuova installazione quindi nuova installazione data vabbè 22 ovviamente quella è la data installazione ma 21 12 2 0 2 0 tipologia generatore o è pompa di calore o macchina frigorifera naturalmente la differenza qual è? che la macchina frigorifera fa solo freddo la pompa di calore fa freddo e caldo in questo caso siccome fa freddo e caldo è una pompa di calore qui si è integrata con pannelli solari ma non è questo il caso i dati dei pannelli solari questi dati sono tutti scritti non c'è altro da inserire mancava solamente la tipologia dell'intervento tutti gli altri dati sono già stati scritti quindi conferma modifica e se vado a vedere le schede vedete che qua è diventata verde l'icona la spunta andiamo a vedere la scheda 1bis che cosa manca vado su modifica c'è tutto manca che cosa se voglio vedere che cosa manca basta che faccio conferma modifica e mi dice dove manca niente qui mi dice attenzione esiste a catastro un impianto con lo stesso pdr la solita la solita discorso di prima io dico conferma ecco ok quindi qui non c'è da mettere altro non c'è da mettere altro rimane in arancione solamente però va bene perché dice sostanzialmente che c'è già un libretto è per questo che è arancione perché c'è già un libretto di impianto c'è già un pdr uguale però la spunta è che è ok quindi va bene uguale il nome in attenzione responsabile non è stata fatta ma c'è la spunta che va bene anche se arancione invece quella che va male naturalmente è la scheda 4.4 che io vado a riempire modifica naturalmente devo riempire obbligatoriamente tutte quelle con l'asterisco rosso posso fare sempre conferma modifica in modo tale che mi fa vedere che cosa manca vedete qua manca la sorgente lato esterno che è questa è una pompa di calore aria-aria aria-aria esterno aria interno aria poi manca il raffrescamento le ER che è 4 e e il COP che è sempre 4 allora anche questo è un dato che va messo tenendo presente le EN 14.511 e le EN 14.825 quindi un dato di talga si va a vedere sul libretto di uso e manutenzione quanto è tenendo presente che bisogna prendere quelle riferite alle EN 14.511 o le EN 14.825 poi il tipo di locale dove è inserita è all'interno manca poi questi dati se fa produzione acqua calda sanitaria no fa climi di detenzione invernale sì fa climi di detenzione estiva sì confermo la modifica non c'è più nessun errore se vado a vedere le schede principali del libretto vedete che adesso non c'è nessuna croce rossa per cui i dati obbligatori sono tutti inseriti ovviamente posso andare a inserire anche le altre schede del libretto che adesso non vi faccio vedere quelle non obbligatorie però come vi ripeto non posso fare le RCE perché prima mi deve dare l'ok l'autorità competente infatti se vado su impianti ricerca impianti c'è in carico al manutentore seleziona mi fa vedere tutti gli impianti e vedete l'ultimo che ho inserito è questo questo è quello che ho inserito prima che ancora non c'è l'ok dell'autorità competente perché ero sempre io che è sempre a dita Mario Marini che l'aveva inserita però l'aveva inserita in un edificio che è sempre a Castelbellino ma in viale del lavoro 302 e poi questa è la pompa di calore invece proprio l'ultima che è per l'appunto in via Contrada Molino 68 e se vedete c'era già un impianto che è sempre il mio carico ok allora io vi ho detto che non vedevo che naturalmente vedo solamente gli impianti che è il mio carico e vi avevo detto che vedo solo la pompa di calore non è vero in questo caso specifico perché io avendo sia il patentino di F-Gas che anche essendo anche un normale manutentore ho installato è io che avevo installato la caldaia che è questa qui vedete 25 chilometri infatti è in via Contrada Molino 68 quindi siccome qua mi fa vedere tutti gli impianti che è a mio carico mi fa vedere anche quella questa era infatti vedete che il codice catastro è lo stesso PRNA001711513 ed è esattamente quello a cui ho inserito ora la pompa di calore che era PRNA00171513 quindi in questo caso ovviamente li posso vedere tutti e due perché è un caso che io ho installato sia la caldaia che la pompa di calore ma se la caldaia l'avesse installata un altro installatore e chiaramente io qui non la vedevo in questo elenco se vado non posso stampare il libretto di impianto adesso lo posso stampare ma non vedrò posso stamparlo andando qui ma non vedrò ovviamente la pompa di calore perché ancora non ho l'ok dell'autorità competente vedrò solamente il generatore di calore a fiamma ma una volta avuto l'ok dell'autorità competente stampando il libretto vedo sul libretto che c'è sia il generatore di calore a fiamma che la pompa di calore ok adesso abbiamo visto come io vado avanti Dorotea sono le 11.39 oppure ci fermiamo allora mancherebbe praticamente adesso l'inserimento di un generatore sullo stesso impianto e la sostituzione del generatore esatto se riusciamo diciamo a farli massimo in un quarto d'ora massimo poi facciamo la pausa dopo ci dovremmo riuscire anche perché stiamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia ok perfetto allora senza andare qui vabbè andiamo qui perché tanto non è eseguente allora vediamo quindi ora come inserire un nuovo generatore di calore a fiamma su un impianto esistente questo è il generatore di calore a fiamma è esattamente quello che vi ho fatto vedere poco anzi a Castelbellino in via con tramonto 68 da 25 kg ma tra adesso ce ne metto un altro ovviamente se non fosse al carico mio già questo generatore prima come installatore me lo devo acquisire dopodiché inserisco anche il mio generatore se no non posso inserire il generatore se prima non me non me l'acquisisco però siccome come abbiamo visto prima io ero l'installatore anche di questo quindi già è a mio carico e quindi non c'è bisogno che me lo acquisisco e lo inserisco direttamente allora andiamo su curvit codice utente sempre la ditta Mario Marini ma ma 60 11 64 01 la password è 630 75 702 entra abbiamo detto che il generatore lo devo ritallare via via Contra Molino 68 a Castel Bellino quindi provincia di Ancona vai ho già in carico il mio impianto quindi posso andarlo a ricercare con ricerca impianti già in carico al manutentore seleziona e abbiamo detto che è questo qui da 25 kilowatt in via Contra a Molino 68 quindi me lo seleziono continuo ecco qua il libretto di impianto vado su schede principale del libretto vado eh manca mi accorgo che manca un dato quindi prima di inserire il generatore è bene che inserisco questo dato che cosa manca manca il pod ecco vedete perché manca il pod perché lui si è accorto che ovviamente eh ho inserito anche la pompa di calore che era sempre su questi impianti e quindi a questo punto vuole anche il pod il pod che abbiamo detto era 1860 1800 1800 60 1800 800 mi dice che c'è già attenzione esiste già conferma e adesso è tutto verde è arancione ma insomma va bene quindi quindi posso andare nella scheda 441 dove ci sono i miei gruppi termici e selezionare inserimento ulteriore di generatori non vi faccio vedere la sostituzione del generatore di calore per stare dentro un quarto d'ora perché è la stessa cosa semplicemente devo qua premere su se poi facciamo in tempo la facciamo ma insomma su sostituzione del generatore esistente ma poi i dati sono uguali facciamo inserimento ulteriore di generatori ok ovviamente qui mi viene detto esattamente quello che avevo detto prima attenzione inserire un ulteriore generatore solo se fa parte lo stesso impianto le potenze utili saranno sommate e qui dice clicca qui per maggiori dettagli e vi fa vedere sostanzialmente quello che avevo detto all'inizio quando si sommano le potenze si è un unico impianto perché solo in quella situazione io posso mettere un generatore insieme in modo tale da costituire un solo impianto infatti vedete il gruppo termico numero due mi dice perché il gruppo termico numero uno è quello vecchio adesso io ne inserisco un altro nuovo nello stesso impianto data di installazione 2112 2112 2020 è un gruppo termico singolo il fabbricante era vediamo un po' il fabbricante Bosch Bosch la matricola no scusate il fabbricante del modello era bella stella bella stella la matricola 112 112 1 non sbagliarsi mai la matricola perché se è uguale a un'altra che esiste già su Curmit mi dà errore combustibile metano il numero provi analisi probabiliste è uno qui molti si sbagliano questo dato io lo debbo deve essere può essere più grande di uno se io scelgo qua gruppo termico modulare allora esattamente quanti sono i moduli sono le prove fumo ma se non è modulare se è singolo questo è per forza uno fluido termovettore acqua calda potenza termica utile nominale 20 kilowatt potenza termica al focolare 21 kilowatt rendimento 95% non sbagliarsi rendimento perché se no dà errore rendimento è uguale alla potenza termica utile nominale diviso la potenza termica al focolare il tutto per 100 marcatura e l'efficienza energetica qui fate sempre 5 stelle data di costruzione del generatore 2018 attivo sì ovviamente scarico fumi siccome c'è già l'altro che scarica in una canna fumaria quindi è collettivo cammino collettivo tipo locale è locale a uso esclusivo perché c'è pure l'altra quindi se no mi supera i 35 kg la vita di stare in una centrale termica camera di combustione è stagna evacuazione fumi naturale codice di PR questa è una caldaia a condensazione la norma di riferimento siccome a gas è la 10891 quella per fare i controlli l'installatore posso metterlo in questo caso sono sempre io quindi cerca Marini Mario Marini C Mario posso mettere un asterisco mi da tutti Mario Marini sono due io e Mario Marini e C questa qui ok produzione acqua calda sanitaria sì climatizzazione invernale sì climatizzazione estiva no se c'è il bruciatore esterno ma in questo caso è interno quindi non c'è conferma inserimento e me l'ha inserito infatti se vado a vedere scheda principale del libretto scheda 4.1 avrò due due generatori questo è quello vecchio e questo è quello che ho inserito oggi infatti 21 12 2020 adesso posso anche inserire l'RCE ma lo vedremo dopo per questo impianto allora ho il tempo credo che il quarto ora non sia passato quindi ho il tempo di farvi vedere anche come si sostituisce un impianto quindi torno al portale questa volta sostituiremo un impianto che ovviamente già c'è quindi io so le caratteristiche per poterlo andare a scegliere questa volta non so Mario Marini ma sono impresa manodentrice RB l'operatore Bellimarco quindi l'utente è MA 60 11 66 02 a passo entra so che l'impianto sta a cui devo sostituire il generatore di calore sta a 4 castelli ok 3 castelli credo 3 castelli che non ce l'ho scritto ma è 3 castelli quindi provincia di Ancona vai ovviamente è già in carico a me perché se non lo dovrei prendere quindi posso andare ricerca impianti già in carico al manutentore seleziona ecco qua quello di 3 castelli è il primo via lo seleziono continua vado a vedere le schede principali del libretto e poi le schede 441 dove ci sono i gruppi termici perché e poi scelgo quello da sostituire questi e tutti i gruppi termici presenti in quell'impianto che avevamo visto all'inizio e devo sostituire diciamo il numero quello che c'ha matricola 1991 punto 15 punto 12 questo devo sostituire il numero 7 quindi lo seleziono e poi vado sostituzione del generatore esistente ecco adesso scrivo i dati del nuovo generatore data di installazione 21 12 2 0 2 0 e come vedete devo scrivere sempre la stessa cosa fabbricante questa cosa il nuovo generatore stavolta è Alexia fabbricante Alexia ok modello best school matricola 23 90 65 12 molto velocemente tanto le abbiamo già viste un possibile metano fluido termovettore acqua calda potenza termica utile in questo caso era 24 kW al focolare 26 kW il rendimento 92,3 la marcatura dell'efficienza 5 stelle la data di costruzione del generatore 2019 scarico fumi collettivo perché c'è tutti gli altri tipo di locale locale uso esclusivo camera di combustione e stagna classificazione di PL690 e a condensazione evacuazione di fumi naturale installatore lo cerco in questo caso credo che sia qualsiasi diciamo che non è obbligatorio questo scriverlo perché non c'è il dato obbligatorio ma sono io praticamente e quindi diciamo che è RB cerca no non è scritto così non è scritto così come è scritto RB credo cerca no vabbè lasciamo perdere non scrivo nulla che facciamo prima produzione acqua calda sanitaria sì prima interazione invernale sì prima interazione estiva no conferma sostituzione e se vado su schede principale del libretto schede 4.4.1 vediamo che il 7 nuovo è questo l'ho inserito oggi 21.12.2020 e mi è stato sostituito il 7 questo infatti non è più attivo ok ho concluso Dorotea l'ho inserito per l'ho inserito Grazie.